Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su FIFA 18 Sulla carriera d'allenatore dopo la disfatta sia in Champions che in campionato Siamo a 16 punti dal Napoli, ormai imprendibile Ma dobbiamo guardarci bene dal terzo posto perché c'è l'Inter a 60 e il Milan a 58 Che si fanno sempre più pericolosi Comunque attualmente l'obiettivo primario è rimasto la Champions League Dobbiamo vincere, abbiamo perso, purtroppo 2-1 l'andata ai quarti di finale in casa Quindi casino Adesso simuliamo intanto con la Sampdoria Dovremmo fare forse un po' di turnover per far riposare i nostri ragazzuoli Comunque 2-0 portiamo avanti la squadra E andiamo avanti, eccola qua Tottenham E' questa qua Offerta di trasferimento di Kinn C'è un milione e tre acce No, 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 ho sbagliato Ho sbagliato Vabbè sti canoni Non voglio fare nessuna dichiarazione C'è soltanto un ritiro spirituale per la partita Contro il Tottenham La formazione che utilizziamo è quella dell'andata Ci saranno forse le piccole accortezze Mettere magari la difesa 3 Cambiamo modulo Voglio cambiare modulo Riprovare una difesa 3 Ovviamente dobbiamo fare Dobbiamo essere molto molto offensivi Potrebbe funzionare una cosa del genere? No, la voglio un po' più particolare Ecco qua Una cosa del genere già mi piace di più Andiamo a modificare i moduli Sovacchialini e Sciglio Eccezionale Pjanic Quadrado Costa Matuidi Lo mettiamo di qua Douglas Costa Sulla destra Bale Come centrale So che non è proprio il suo ruolo Ovviamente non è proprio il suo ruolo Per carità Però comunque utilizziamo due esterni Quale quadrado e Costa Bale Lo mettiamo qua Che può fare di tutto Possiamo mettere Di Bala dietro Che lui ci si potrebbe trovare qua Di Bala Bale E Iguain davanti Matuidi e Pjanic In questa posizione Ragazzoli Speriamo bene Eccoci qua in casa del Tottenham Juventus Tottenham Juventus La partita che vale le semifinali La partita che vale per la Juventus Una stagione davvero disastrosa per ora Il tiro da fuori La parata Donna Roma Ci mette subito una pezza Al terzo minuto Possiamo prendere un gol Non mi interessa Dobbiamo fare un paio Per forza Vi allontaniamo Ma c'è ancora il pericolo Avanza il Tottenham Il limite dell'area Al tiro Donna Roma Facile Matuidi per Iguain La dà subito lunga per Bale Attaccante Un po' Inventato Gareth Bale Però c'è Iguain Bella sterzata Iguain La cross in mezzo C'è Quadrado Non è finita Sei infortunato Gareth Bale Sei infortunato Gareth Bale Porca miseria Non ce l'ho Non ce l'ho Non so chi cazzo mettere Bernardeschi Sterno destro Il posto di Gareth Bale Bernardeschi Mettiamo Qua al posto di Poi puntiamo su Dybala Posso puntare su Bernardeschi Vendiamo la partita Gareth Bale è uno stop Questo pesante purtroppo Comunque non è finita Chiellini intercetta il pallone Può ripartire la Juventus Fermato ancora Chiellini Calcio d'angolo per il Tottenham Situazione non è facile Qui cross in mezzo Douglas Costa lontana La prende Bernardeschi Che la può andare a dare lunga Per Iguain A questo punto siamo Iguain Davanti alla porta La piazza Iguain L'1-0 La firma lui Al trentaseiesimo Con Zalo Iguain Iguain Sotto le gambe La portiera e la devia Si alza La palla si impenna Al trentaseiesimo 1-1-0 Si riaprono le speranze Dei tifosi giuventini A questo punto Si può fare È fattibile l'impresa Ma bisogna segnare ancora Finisce qua Il secondo Il primo tempo Il Bayern vince Quindi probabilmente Avremo il Bayern In finale Ma non è detta l'ultima parola Stiamo vincendo In semifinale Stiamo vincendo la 0 Ricominciamo E questa sarà Veramente una partita dura Miralem Pjanic Pjanic il tiro La diretta di Pjanic Non va La da per Dybala Grande Dybala La ridà di nuovo A quadrato Lunga Quadrato può andare Sul fondo e crossare Quadrato Quadrato Entra in aria Quadrato Che cazzo fai Quadrato Vabbè sono una sega io Quadrato 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 Tutto di prima Bella azione Bernardeschi Eccolo qua Bernardeschi Davanti al portiere Bernardeschi Bernardeschi La da dietro Per Douglas Costa Che palo Douglas Costa La rimette indietro Con una girata C'è Matuidi Non va Sembrava un gol fatto Questo Un errore credibile Adesso può ripartire Però il Tottenham Attenzione Al contropiede No ok Contropiede no Perché si sono fermati Praticamente Ok ce l'abbiamo Intercetta il pallone La Juventus Ancora No regala il pallone Al Tottenham Bernardeschi Bernardeschi Ancora Bernardeschi Perché si è un grande Bernardeschi La vuole dare No Per il Riguain Si Riguain Integgiata per l'alti Riguain La terra Di credibile La doppietta Riguain 6666 Riguain La doppietta La firma lui Il grande Riguain Gonzalo A questo punto La siglacerebbe Dal mettere imbaltata Al sessantottesimo Si invertono i ruoli Adesso la Juventus Può tranquillamente Starse ne comoda Ad aspettare L'inventiva La parte Diciamo La reazione Del Tottenham Ma non c'è spazio Qua Tiago Silva Vede lungo No Bell'aggancio Di Di Bala Paolo Di Bala Di Bala Il tiro Di Bala 3-0 Paolo Di Bala Con il numero 10 Al sessantottesimo Ormai è finita Ormai è finita Il Tottenham Dovrebbe fare No con due gol Però si qualificherebbe Ancora il Tottenham Quindi Non è proprio finita Ma la Juve Può attirare Un bel sospiro di sollievo Contro ogni pronostico In casa del Tottenham Un 3-0 eccezionale Non è finita Tiago Silva La respinge Quadrado Con le ultime forze Per Paolo Di Bala Può spingere Paolo Di Bala Sulla fascia Gli ultimi tre minuti Di recupero Paolo Di Bala Vuole firmare Il 4-0 Forza Di Bala Di Bala Il tiro L'ha parata troppo facile Poteva detenerla Benissimo Vigilare la bandierina In via il partiere Siamo in semifinale Di Champions League Ce l'abbiamo fatta Grande risultato Questo davvero Un grandissimo risultato Ottenuto dalla formazione Bianco-nera Che in questo caso Era gialla Ma va bene così Grandi 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 Abbiamo fatto 6 tiri Di cui 4 in porta Anche il Tottenham 4 tiri In porta E nessuno In gol Il Bayern Quindi Ci troveremo Contro Allora Ha vinto Il Paris Saint-Germain La grande partita Sarà quella di Real Madrid Paris Saint-Germain E dall'altra parte Avremo Juventus Sbagliar Monaco La Juventus Ci ha dato 6 milioni e mezzo Come premio torneo È davvero incredibile Molto molto bene Colloquio giocatore Sono in ottima forma Bernardeschi in ottima forma Lo potremmo sfruttare Il ragazzo Perché alla fine è giovane Quindi voglio dargli fiducia E lo mettiamo Al posto di Guaina Bernardeschi Ha fatto una bellissima partita Un esterno Però Un esterno Facciamo Tipo Non lo so Che cazzo di formazione è questa È molto strana Non c'è un attaccante in campo Però Sì Voglio salvare le modifiche Abbiamo una grande partita adesso C'è il Napoli Possiamo recuperare 3 punti Quindi arrivare a Meno 11 E sperare E sperare il 22 aprile Non ce la faremo mai Però ci si può provare E andremo a vedere Che cosa succede Forza per questa partita Allora ragazzuoli La partita ce l'andiamo a giocare Contro il Napoli Sarà un'ampia sintesi Per il semplice fatto Che Ho già Cioè siamo arrivati 7 minuti e passa Quindi Facciamo un'ampia sintesi Della partita Vediamo quello che succede Incrociamo le dita Se vinciamo questa davvero Siamo a buon punto Col campionato Ancora quadrato Eccezionale Quadrato 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 Il tiro quadrato Lo fa roto Non è ancora finita La palla rimane lì Si impenna C'è Douglas Costa Che l'aspetta Lati il tiro Reina Garrett Bale Bellissimo Siamo 3 contro 2 3 contro 2 Garrett Bale Si gira Bale Si Bernardeschi Si decide tutto Impossibile Ma ci sono 2 minuti Di recupero Il Napoli Il Napoli In avanti Con la forza Della disperazione C'è Paolo Di Bala Ancora il Napoli Siamo sfiniti ragazzi Dobbiamo stringere i denti L'ultimi L'ultimi minuti L'appoggio Il tiro La parata La palla rimane lì Non è finita Ancora Douglas Non è finita Ancora Douglas Costa è finito Cade in piedi Donna Rumba Cade in piedi Cade da fermo Donna Rumba Grande Finito Ce l'abbiamo fatta Abbiamo recuperato 3 punti fondamentali Al Napoli Eccezionale Questa davvero eccezionale Allora ragazzuoli 11 punti In meno dal Napoli Simuliamo la partita Magari Questa la vinciamo Se il Napoli perde Cavolo No 2-2 pareggio Vabbè Gnatto Non c'è verso Il campionato Quest'anno Non si vince Adesso abbiamo le semifinali Che andremo La giocatore infortunato Chiellini 5 settimane di stop Cazzo raga Abbiamo una squadra menoata C'è nessuno Cazzo ci metto in difesa Offerta per il trasferimento Insomma Nel prossimo episodio Andremo a vedere Tranquillamente No dove ho accettato Nel prossimo episodio Andremo a vedere Come Eccola qua Primo maggio Semifinale di Champions League Ragazzuoli Andremo a vedere Nel prossimo episodio Proprio simuleremo Tutta la partita Cazzo 75% Eh non gli è piaciuta Per niente Il fatto che io Non abbia Vinto Cioè il campionato Ormai Non si vince più Ma la Champions League Potrebbe davvero Portare grandi frutti Dobbiamo assolutamente Vincere la Champions League Almeno arrivare in finale Siamo alle semifinali Paris Saint Germain Vediamo il prossimo episodio Ragazzuoli Proviamo ad arrivare A 7-7 mi piace Per questo video Mi raccomando Un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se avete fatto Condividetevi su Facebook Ehm Condividetevi Non mi ricordo più Cazzo non mi ricordo D'altro Vabbè Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti